I carabinieri della compagnia d'Ischia hanno sottoposto affermo di indiziato di delitto un 19enne ed un 14enne di origini rumene, entrambi senza fissa dimora, ritenuti responsabili di una violenza sessuale consumata a Barano d'Ischia nella notte dello scorso 20 settembre, in danno di una studentessa 14enne del luogo. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Napoli hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. La ragazza, mentre percorreva da sola una scarinata pubblica obbligata a Barano d'Ischia, è stata raggiunta dai due indiziati, che approfittando dell'orario notturno l'hanno bloccata dalle spalle, palpeggiandola nelle parti intime con l'intento di consumare un rapporto sessuale. Fortunatamente la studentessa è riuscita a divincolarsi fuggendo verso le amiche che la stavano attendendo presso una vicina fermata dell'autobus. Dopo alcuni giorni la ragazza ha trovato il coraggio di riferire l'accaduto alla madre e dai carabinieri della stazione di Barano, facendo scattare le indagini. Nella serata del 30 settembre, al termine di tempestivi accertamenti, i due indiziati sono stati rintracciati dai carabinieri e riconosciuti con certezza dalla minore e dalle sue amiche. Il maggiorenne è stato condotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre il minorenne presso il centro giustizia minorile di Napoli Colli Aminei, entrambi in attesa di udienza di convalida del firmo.